L'onda lunga delle politiche monetarie espansive colpisce anche l'Australia. La banca centrale ha tagliato il tasso di interesse principale al 2%, nuovo minimo storico. Una manovra che punta tra le altre cose a contenere l'eccessiva forza del dollaro australiano, ma anche a incoraggiare la ripresa dei consumi delle famiglie. Difficile dire se l'Istituto di Credito Centrale proseguirà su questa strada. Gli effetti sul settore immobiliare sono apprezzati, ma non la bolla dei prezzi delle case che ha colpito Sydney. I produttori di materiali ferrosi, principale esportazione della terra dei canguri, intanto ringraziano.